Ho chiesto a un amico se potevo tenere un pugnale in macchina. Assolutamente no. Ti ho chiesto se potevo tenere un bastone in macchina. No. Ti fanno storie, ti fermano, ti chiedono perché hai il bastone nella macchina, devi giustificare. Ok. Allora ho detto, ma se io tengo un portachiavi nella mia macchina a forma di scubidù, mi fanno storie? E lui ha detto no, il portachiavi lo puoi tenere. Allora io ho costruito questo portachiavi, ok, a forma di scubidù. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete? Questo qui, questo è un portachiavi a forma di scubidù. Quindi ora mi giro con il portachiavi in macchina. No, vede nei coglioni.